Di nuovo in diretta a Radio Roma Capitale, a Overture, con me c'è questa sera per questo straordinario speciale Erika Servia, di nuovo buonasera Erika Buonasera E buonasera ad Alberto Gentile Buonasera Erika è la figlia di Davide Servia, tecnico non più militare perché si era congettato sei anni prima, 1984 Rispetto alla data del rapimento avvenuta il 12 settembre del 1990 Alla vigilia proprio imminente della prima guerra nel golfo E comunque Davide Servia è ragionevolmente considerato uno dei più grandi Uno dei massimi esperti di guerra elettronica Quindi stiamo parlando di un numero uno assoluto nel suo campo Ritorno da lei Alberto La solidarietà del paese, la solidarietà della gente, le amministrazioni locali C'è stato un assenteismo totale Perché gli inquirenti diciamo che hanno fatto come una contrainformazione Anche con un giornale locale che faceva da portavoce dei Carabinieri Ma quello che io vorrei sempre portare nel cuore e ringrazio molto una persona che manca da due anni È un frate Cappuccino Padre Clemente che ci ha aiutato molto Sia negli incontri, sia c'è stato molto vicino alla famiglia, sia spiritualmente, sia in tutti i modi Ma io mi chiedo una cosa Una famiglia come Marisa con due bambini piccoli Che si trova in questa situazione è stata abbandonata totalmente al 100% I bambini non sono stati mai considerati Ma non per vanteria Se non ci fossero stati i genitori di Marisa Non so che fine avrebbero fatto sia Marisa che i bambini Ma io parlo economicamente E noi ci siamo privati di tutto Ma senza rimpianti, senza nessuna Ma questo per richiamare le istituzioni Perché anche i comuni di Velletri A parte una piccola parentesi nel 94 Ma cose concrete non sono state mai fatte Ancora oggi i ragazzi avrebbero diritto a una categoria protetta per un posto di lavoro Ancora gli viene negata dal Ministero d'Internet E questa è una cosa veramente grave e mi fa male Allora Marisa lavora in privato In privato Erika cosa fai te? Io sono estetista A posto è così carina, la serve Hai trovato lavoro da poco Da poco, sì Perché hai perduto il lavoro, l'hai ritrovato Sì, poi di questi tempi la mia generazione Non entriamo in altri argomenti Perché è un periodo tremendo Quindi la generazione mia è devastata sul piano lavorativo È stato difficile essere la figlia di questo ragazzo qui Scomparso nel 1990 a Velletri Avevano paura di avvicinare Le mamme magari non giocate con i servia Per paura che gli possa succedere No, questo non ci succedeva a livello scolastico Nel senso che noi siamo sempre stati pieni di amici Quindi questa cosa no Anche le mamme non hanno mai avuto questa ritrosia Però a Velletri Inizialmente nei nostri confronti Ci guardavano come se avessimo ammazzato qualcuno Quindi quando noi uscivamo a comprare qualcosa nei negozi Io questa cosa me la ricordo benissimo Ti guardavano come se fossi un delinquente Però mi rendo conto che non era totalmente colpa loro Perché come diceva mio nonno C'erano i carabinieri aiutati da questo giornale locale Che ci hanno proprio diffamato Quindi siccome noi non eravamo neanche di Velletri Perché noi siamo originari di Roma Erano pochi anni che stavamo a Velletri Nessuno ci conosceva bene Quindi era facile mettere voci strane O comunque dire alla gente Lasciateli perde Era molto semplice Però devo dire che negli anni poi Abbiamo vinto noi Adesso abbiamo la stima veramente di tutti Allora io vengo lunedì scorso a casa vostra E i servia I gentili servia Sono stati vittime di un attentato Perché poi ho letto Seguendo un po' le tue pubblicazioni sul gruppo Vi invito a iscrivervi a tutti davvero E fate in modo che questo gruppo Cresca sempre di più su Facebook Il gruppo Davide Servia Ho seguito le tue pubblicazioni Anche proprio la cronologia delle stesse E io lunedì scorso ho potuto vedere Fare un sopralluogo con Alberto ed Erika Quando ho letto Fuga di gas Insomma mi veniva amaramente da sorridere Poi alla fine credo che si siano ravveduti Perché quando hai iniziato a pubblicare Perché loro controllano, fanno monitoraggio No purtroppo non si sono ravveduti Allora io ti racconto Racconto a chi ci ascolta Quello che è successo Il 16 ottobre dunque un mese fa Noi ci trovavamo sul piazzale C'è stata proprio un'esplosione Di un locale cucina Che noi abbiamo adiacente alla nostra abitazione È stata un'esplosione stranissima Perché ad esplodere verso l'esterno Sono state soltanto la porta E la finestra di questo locale Inizialmente noi dall'esterno Perché io mi trovavo lì E mia nonna era appena uscita da questo locale Quindi abbiamo sfiorato una strage Veramente Perché ci potevamo veramente far male E dall'esterno noi pensavamo Visto che lì abbiamo una bombola del gas E una macchina del gas Pensavamo fosse una fuga di gas Quando però siamo entrati Allora all'interno del locale Non c'era alcun danno Tutto era come l'avevamo lasciato Io penso che se esplode una bombola del gas Di danni ne fa Sabato sera ero con un carissimo amico Il quale mi faceva notare proprio questa Lui ha seguito tutta la cronologia delle pubblicazioni E mi ha mostrato delle foto Dove invece si ravvedono i danni Da fuga di gas Esplosione di una bombola Quando esplode una bombola Viene giù un palazzo Eh appunto Invece lì non è accaduto niente Io sono stato È un attentato vero e proprio Un attentato Attentati si fanno a scopo intimidatorio Se Erika Cinque minuti prima Non si fosse mossa Sarebbe morta Probabilmente sì Perché io andavo sempre lì In quella zona Perché ho dei gattini Quindi gli mettevo da mangiare E mia nonna Entrava sempre in questo locale cucina Perché lei ci prepara le verdure Insomma Quindi magari si mette là E ci cucina qualcosa Quindi abitualmente sta lì Dunque se magari bastava veramente una frazione di secondi O a me o mia nonna Non lo so quello che ci sarebbe successo La cosa gravissima su questo fatto Che mia mamma ha chiamato lo stesso giorno I carabinieri di Velletri Che si sono presentati il giorno seguente Per fare un sopralluogo Ebbene Allora I carabinieri di Velletri Non hanno né allertato i vigili del fuoco Né un eventuale penso RIS In questo caso è RIS Credo che debba intervenire Perché A distanza di un mese Ancora noi non sappiamo quello che è accaduto Alberto Ma la cosa più grave Che ancora insisto Nel dire che Noi dovevamo chiamare i vigili del fuoco Ma io dico Una famiglia Che da 22 anni Si porta sulle spalle Questo fardello Di una persona rapita Noi Quando ci rivolgiamo ai carabinieri Dovrebbero stare già allerta Per qualsiasi cosa E intervenire Non dobbiamo noi Chiamare i vigili del fuoco Perché è una cosa gravissima Perché poi mia figlia L'ha chiamato Poi glielo spiegherà a lei L'ha chiamato i vigili del fuoco Del luogo Però Gli hanno detto Doveva rivolgere A Roma Eccetera Ma io dico In un paese democratico E che si rispetta la legalità Una famiglia Non è questo però Alberto Eh? Non è questo Stiamo parlando di un altro paese Sì, sì Però Permettimi questa critica A me ci mancheremo Questo sfogo Quando una famiglia come noi Ma non perché Non vogliamo niente di più E niente di meno Ma c'è una persona Sequestrata Che ancora Con tutte le novità Che ci sono Che noi ci rivolgiamo Ai carabinieri I carabinieri Non si preoccupano Vengono il giorno dopo E ci danno delle colpe Che noi non siamo Non abbiamo chiamato Chi era di dovere Beh questo ci fa un po' arrabbiare Come no Ma se state qui E soprattutto perché Volete soltanto fare giustizia Su questa vicenda E io vi sono anche grado Di aver scelto Overture Radio Roma Capitale Ritorniamo più strettamente Alla storia Un bravissimo giornalista Che salutiamo Gianluca Cicinelli E Colarieti E Fabrizio Colarieti Gianluca però è protagonista Di una vicenda Molto particolare Che va assolutamente stigmatizzata Perché si pensa Che dietro al sequestro Di Davide Servia Ci siano sì Servizi segreti italiani C'è sicuramente il sismi Ma c'è la netta complicità Parrebbe da subito Della Francia Ebbene sì Che cosa succede A quel punto Allora il 4 gennaio Del 1991 Appare su un biglietto Il nome di Davide Servia E di un'altra persona Che purtroppo Noi non abbiamo potuto Identificare Era Aspettava il magistrato Ma purtroppo Non l'hanno fatto Un biglietto Con il nome di Davide Servia 4 gennaio 1991 4 gennaio Quindi prima che scoppiasse La prima guerra del golfo Perché mi pare il 9 Inizia Sì 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 E biglietto Parigi Il Cairo Per Davide Servia E quest'altra persona Acquistato dal Ministero Degli Affari Esteri Francesi Questa è gravissima Questa cosa Non sarebbe così grave È grave Ma non sarebbe Gravissima Se il bravissimo Gianluca Cicinelli Cosa scopre Gianluca va proprio in Francia Va proprio in Francia A parlare con l'ex direttore Dell'Air France Dell'Air France Che si chiama Rouget Rouget E praticamente Registra Il colloquio Con questa persona E Rouget Appunto Conferma Tutto quello Che io vi ho raccontato Che speriamo già stasera Di poterve la far sentire È stata Una mancanza mia Nel senso che io E Alberto abbiamo Un rapporto con la tecnologia Abbastanza Complicato Se non sarà questa sera Ringrazio Orlando Friuso Ovviamente E il nostro Alberto Car No Alberto Alberto Virdis Potremmo farlo sentire Già stasera Ma non mancherà modo Per farlo sentire Dunque Davide Come inustica Anche nel nostro caso La Francia Ha una responsabilità Purtroppo Avrebbe Una responsabilità Avrebbe Avrebbe una responsabilità Beh certo Avrebbe una responsabilità Però il condizionale Si può coniugare Se ci fosse qualche magistrato Che riprenderebbe Infatti la cosa grave È proprio questa Nessun magistrato Noi non potevamo indagare Noi non potevamo andare A cercare Chi era Anche la persona Che accompagnava mio padre Perché era fondamentale Capire chi fosse stata Questa persona Ma noi non lo potevamo fare Era competenza Della magistratura Questo è un motivo Per cui noi ci diamo in causa Il Ministero della Giustizia Su questo poi Chiedo anche Un'impressione Al signor Alberto Gentile Ma lo facciamo dopo La pausa pubblicitaria Rimanete con noi Radio Roma Capitale 18.46 Torniamo in diretta Radio Roma Capitale Erika Servia E qui con me La figlia di Davide Scomparso nel settembre Il 1990 Esperto di guerra elettronica E il signor Alberto Gentile Suocero di Davide Servia Ruge Che è l'ex direttore Dell'Air France In quella conversazione Che viene registrata Dall'ottimo Cicinelli Si rivolge a chi? Al Ministero della Sicurezza Francese Non credo che per tutti I passeggeri Si rivolgono A questo A questo Ministero Della Sicurezza O della Difesa Adesso non ricordo bene Ma Questi due biglietti Perché è stata rilasciata Per due persone Dall'Agenzia Les Invalides Che io Con le parole straniere Non ho Domestichezza E Questo volo Da Parigi Al Cairo Ma la cosa Più abberrante Che Dopo cinque anni La Procura Generale Chiede notizie E i tabulati I tabulati Non li trovano E il magistrato Accetta Questa Questa condizione Questa condizione Vi sembra A dir poco Vergognoso Arriviamo A scavare ancora di più Questa è una cosa Che tu già hai detto Nell'aprile o maggio scorso Quando intervenisti Molti ascoltatori Dall'ora Sono sintonizzati Grazie al cielo Anche qui Molti Per un'incompatibilità D'orario Non sanno Quello Che ti sto per chiedere Scaviamo Sempre di più In profondità Perché Un po' Chi l'ha visto Anzi Molto chi l'ha visto Determinante Il lavoro Della famiglia Servia Che Continua Imperterrita Nella ricerca Nel reperire Elementi Che possano Sempre di più Aiutare a ricostruire La vicenda Del loro amato Davide A un certo punto L'importanza Di questo lavoro Viene poi quantificato In qualcosa In un accadimento Qualcuno Vi offre Un miliardo Di vecchie lire C'è stata L'offerta Di un miliardo Per lasciar perdere Le ricerche A mia mamma È stato offerto Un miliardo Nel 1991 Affinché Non Interrompesse Le ricerche Su mio padre Chi Fa questa offerta Ovviamente Non siete Tenuti A dare nome E cognome Dite quello Che volete Io vi chiedo Lo status Una cosa più generale Un politico Un uomo Delle istituzioni Non si può dire Perché L'offerta È stata fatta Personalmente Non c'è niente Di comprovato E non si può Fare nome Per vari motivi Possiamo solo dire Se è una figura È un rappresentante Delle istituzioni Un altro rappresentante È all'interno Delle istituzioni Ancora oggi Non lo so Oggi Se ancora Non lo sapete Allora Ovviamente Marisa rifiuta Perché si deve andare avanti Nella ricerca E la forza Che questa donna Riesce a trasmettere Nelle apparizioni televisive Colpisce davvero grandemente E suggestiona Grandemente L'immaginario Degli italiani C'è un processo Tra qualche giorno Il 7 dicembre Ci sarà la prima udienza Appunto Abbiamo citato in giudizio Come dicevo prima Il ministero della difesa E il ministero della giustizia Perché come dicevo Hanno sempre ostacolato Le nostre ricerche Non ci hanno aiutato Ci hanno ostacolato Io vorrei dire agli ascoltatori I fogli matricolari Per me sono fondamentali La Marina fornisce Per legge Un solo foglio matricolare Per ogni militare Per mio padre Ne abbiamo tirati fuori Cinque Ma la Marina Ce ne ha forniti Cinque Uno diverso dall'altro C'erano degli spazi vuoti Mancavano proprio Le cose fondamentali La sigla GE Guerra elettronica I corsi che mio padre Aveva seguito Presso la SMA di Firenze E la Selenia di Roma Due nostre industrie Belliche Quindi mancavano proprio Le parti fondamentali Cioè c'erano degli spazi vuoti Che tornavano invece Negli ultimi fogli matricolari E anche questo Ecco uno degli ostacoli Per esempio Perché la Marina nasconde? Perché quegli spazi vuoti? Se mio padre era un semplice elettricista Qual era il motivo per cui Non potevano fornire Il vero foglio matricolare Fin dall'inizio? Alberto Questa faccenda La vicenda dei fogli matricolari È gravissima Perché per legge Si dice che Deve essere copia Conforme all'originale Come tutti i documenti ufficiali Cosa che questo Non è successo Perché dovevano Occultare La propria specializzazione Perché il primo foglio matricolare Lo ritirai io L'11 aprile 91 Alla capiteria di Imperia Dove riportava Il corso alla Selenia E lo spazio vuoto Della specializzazione E voglio arrivare Questo confronto Il secondo Scoperto Da giornalisti Dai carabinieri Perché porto il timbro Di carabinieri Non ci è riportato Nemmeno quel corso Cioè Meno notizie Di quello che hanno dato A noi familiari E questo Mi sembra grave A me sembra grave Con tutto rispetto E lo scenario È sempre quello Della guerra Che abbiamo Affisso O comunque Vada anche bene Perché è una scelta Di un'amministrazione Individuata Nella persona Di Gianni Alemanno L'esposizione Di Talit Questo militare E dell'esercito Israeliano Che era stato Sequestrato Dai palestinesi Da Mas Abbiamo esposto Tutte le donne Che rischiavano La lapidia Abbiamo chiesto Giustizia E verità Per tutto Sarebbe bello Se Radio Roma Capitale Con i suoi ascoltatori Potesse invitare L'attuale amministrazione Capitolina Ed esporre la figura Di Davide Cervia Chiedendo verità Per questo cittadino Che è romano A tutti gli effetti Poi perché altrimenti Pensiamo che stiamo Fossa anche di Velletri Un nativo di Velletri Non cambiava niente Di Sanremo Mio padre Di Sanremo Però è romano A tutti gli effetti Certo La famiglia Marisa È di Roma Quindi voglio dire Credo che forse Siamo vicini A questo tentativo Io ringrazio Alberto Per dire Perché forse Potremmo farlo Potremmo farla Questa cosa Far sentire Questa telefonata È una ricostruzione Talmente dolorosa E purtroppo Tu al dolore Mi rivolgo ad Erika Ti sei abituato Ti sei dovuta Abituare Sei dovuta Crescere Velocissimamente Leggo una lettera Che è stata inviata All'aspettabile Trasmissione Di Rai Tre Chi l'ha visto Alla signora Donatella Raffai In seguita La scomparsa Del signor Davide Cervia Non potendomi Sporre Credo Direttamente Personalmente In quanto potrei Incorrere In gravissime Spiacevoli Situazioni dirette Alla mia persona Alla mia famiglia Vi prego Di seguire Indicativamente Le seguenti strade Per poter Avere Notizie Ed eventualmente Rintracciare Il signor Davide Cervia Quella che sto Leggendo È una lettera Anonima Scritta La macchina Molto probabilmente Dal carattere Sembra una vecchia Olivetti 92 82 Olivetti 83 È rivolta All'allora Conduttrice Della fortunata Trasmissione Chi l'ha visto Questo Anonimo Chiede Con preghiera Di rivolgersi Per rintracciare Eventuali Elementi Importanti Per cercare Per ritrovare Davide Cervia Primo Rivolgersi Al ministero Della difesa Secondo Servizi segreti Dello Stato Che fanno capo Al ministero Della difesa Terzo Capo supremo Della marina Militare Questi organi Del nostro paese Stato italiano Sono al 100% Al corrente Della situazione Attuale E non Della scomparsa Del signor Davide Cervia Personalmente Sono stato Più volte Contattato Da alcuni Dei suddetti Organi Dello Stato Con continue Pressioni Per iniziare Un rapporto Internazionale Con stati stranieri Questo tipo Di rapporto Militare Bellico Che funzionari Ad alto livello Del nostro paese Mi avevano Prospettato Per un Era basato Sulle installazioni E venduti Dall'Italia All'estero In particolare In Libia Il signor Davide Cervia Per un breve periodo Ha fatto parte Del gruppo Di studio Militare Ove personalmente Ho preso parte Dato l'alto numero Degli allievi Partecipanti Non ho potuto Conoscerlo Personalmente Ma alcune volte L'ho sfuggevolmente Visto In aula Di laboratorio Prove Misure Poi continua Questa lettera E scrive Ancora Prospettiva Economica Ad alto livello Ci sono Sono state Fatte Durante Il concorso Qui si parla Questa è una lettera Anonima Che arrivò Alla redazione Di chi l'ha visto All'attenzione Dell'allora Conduttrice Del programma Donatella Donatella Raffai C'è un fatto Che anche I nostri Migliori Inquerenti Che sono Gli ascoltatori Potrebbero Usare Per avallare Quella bontà Di La veridicità Di questo documento Quando La persona Io l'ho letto All'impronta Scrive Non l'ho conosciuto Personalmente Dato l'alto numero Di allievi Partecipanti Ma alcune volte L'ho Fugacemente Visto in aula Di laboratorio Prove e misure Non è l'unica lettera Che verrà inviata Ne abbiamo altre Qui e poi Se avremo tempo Le leggeremo Oggi O eventualmente La prossima volta Questa è assolutamente Illegibile Almeno da questo Punto di vista E prego Se può Alberto Magari Rassur Questa è arrivata Al 23 agosto Del 92 A Padre Clemente Quel frate Cappuccino Che oggi ci manca E è arrivata Questa lettera Che E' scritta A mano Di una moglie Di un militare Che questa Come diceva prima Erika Che si lamentava Che dovevano cambiare Continuamente Sia abitazione Sia città Perché venivano Pressati Da persone Che Rivolgendosi Al marito Per il lavoro Che aveva fatto In precedenza Di accettare Il lavoro Dove dicevano loro Noi L'abbiamo L'abbiamo Accompagnato Per consegnarla Al magistrato Che aveva L'inchiesta E ricordo benissimo Che gli disse Se vuole Me la può lasciare Noi In nostra presenza Non ha fatto Nessun verbale Di acquisizione Un'altra anomalia Un altro ostacolo Un altro ostacolo Allora Velocissimamente Perché poi Dopo la pausa pubblicitaria Dovremmo sentire Dovremmo avere il piacere Di avere collegata Con noi Proprio Marisia Gentile La signora E la moglie Appunto Di Davide Servia Dopo dieci anni Poi si acquisisce Lo status Di vedova Queste sono tutte Cose che Si apprendono Strada facendo Allora Io scorro qui Velocissimamente Queste immagini Che voi potete vedere Proprio sul gruppo Davide Servia Gruppo Davide Servia Lo trovate su Facebook Più siamo E meglio è Ve lo dico davvero Col cuore Dobbiamo essere tantissimi Più siamo E meglio è Perché qui Si concorre Ovviamente Per la cosa Più importante In assoluto Che è quello Di fare Giustizia Ringrazio Gian Guido Proprio per questo Verità su Davide Servia Dobbiamo adoperarci tutti Per arrivare Alla verità C'è questo processo Il 7 di dicembre Molto probabilmente L'attentato Che ha visto Vittime Nella situazione generale Non fisicamente Grazie al cielo La famiglia Gentile Servia È avvenuto Proprio in un periodo Che precede Tutto succede Alla vigilia Di qualcosa Ed ovvio Che ognuno di noi È in grado Rispetto a questa vicenda Di farsi un'idea Abbastanza chiara Certo Ma non è successo Soltanto quello Io voglio ricordare A chi ci ascolta Perché dopo questa esplosione I giorni seguenti Per esempio Dentro casa di mio zio Che abita Tu sei venuto a casa Hai potuto vedere Noi abitiamo tutti insieme Si sono succedute Per tutta una notte Una miriade di telefonate mute Che tra l'altro Hanno terrorizzato i bambini Perché tu immagina Di notte E anche questo fatto È stato denunciato E al presidente del comitato Gianluca Cicinelli È stato sfondato Il portone di casa Anche lui Ha denunciato il fatto Sempre i giorni Dopo l'esplosione E il vice presidente Del comitato È stato buttato fuori strada Allora questo Il vice presidente del comitato Sandro Silbi Sandro sì Allora questa è una storia Che si ripete anche in passato Quando la famiglia partecipava A trasmissioni televisive Tipo chi l'ha visto Comunque proponeva Delle iniziative pubblicamente Era vittima Di una serie di atti intimidatori Che potevano essere Telefonate mute Pedinamenti Imbottigliamenti E quant'altro Quindi noi da 22 anni Viviamo così E non mi sembra giusto Allora Ci fermiamo Per la pausa pubblicitaria Di ritorno da questa Avremmo Vediamo un personale Ma credo condiviso piacere Proprio ospite Collegata con noi al telefono La vedova di Davide Servi E la signora Marisa Gentile A dopo E la signora Marisa Gentile